Guardate in compagnia di cosa siamo, grazie ad Antonio ci abbiamo da provare il DJI Phantom 4 V2 che avevamo visto sul canale ma non l'abbiamo visto a confronto con il nuovo Mavic 2 e proveremo anche, siccome è dotato di AcuSync, anche il controller, lo smart controller tra l'altro notarie, lo posso far vedere il nuovo acquisto, spettacolare il nuovo zaino questo è fighissimo allora proviamo l'abbinamento ora, quindi lo smart controller e il mitico Phantom che purtroppo è fuori stock in teoria avendo entrambi AcuSync 2 dovrebbe andare vediamo per collegare i due bisogna schiacciare questo led e tra poco scopriremo se funzionerà o non meno funza questo è il vero drone per smart controller guardate che qualità sul remote è parecchio meglio rispetto al Mavic 2 però non c'è storia dunque se tanto ci da tanto questo qua funziona col Phantom 4 quindi il suo controller potrebbe funzionare con Mavic 2 tanto sono tutte e due AcuSync quindi perché no tra l'altro il controller del Phantom 4 oltre ad avere il monitor sulla parte superiore del controller a differenza dello smart controller che ce l'ha sulla parte inferiore è anche dotato di slot micro SD presa HDMI e porta USB quindi direi come conformazione bene o male abbiamo le stesse cose non abbiamo Android qua sopra a pieno come invece c'è sullo smart controller però abbiamo tutta una serie di tasti che sono espressi in modo diverso e potrebbero risultare più comodi quindi ad ogni modo proviamo, vediamo cosa succede allora, enter device il display tra l'altro durante le prove di volo risulta essere leggermente più luminoso quello dello smart controller come grandezza è un po' più grande quello dello smart controller ma questo è davvero piacevolissimo da usare quindi nulla da togliere allora, remote controller linking ahia, questi non si parlano niente, questi due non vanno ora facciamo il confronto lo so, vi ho beccati ora vi saresti aspettati dopo il decollo finalmente le immagini a confronto del Phantom 4 Pro e del DJI Mavic 2 Pro però perché abbiamo fatto questo stacco? perché vi ho fermati in tempo? perché volevo invitarvi a guardare con occhio ancora più clinico alcuni fattori, alcuni aspetti delle foto e dei video che vedrete tra poco questo perché non è facilissimo riuscire a identificare spero la compressione di YouTube non ci renda ancora più difficile la missione le differenze tra questi due droni sono differenze davvero minime ma nel risultato finale quindi nelle immagini che vedrete che non sono state post prodotte sono state semplicemente passate su Lightroom per quanto riguarda la correzione della distorsione dell'obiettivo del Mavic 2 Pro sapete che i bordi laterali sono distorti quindi ho semplicemente inserito le immagini su Lightroom senza portare alcuna modifica e le ho asportate in JPEG alla massima qualità e poi le ho messe nel video stessa cosa per i video importati direttamente dai microSD messi su Final Cut e nella timeline quindi niente post produzione nonostante non abbia toccato nulla noterete spesso alcune immagini essere quasi identiche però lì con lo zoom poi ne andremo a parlare a vedere insieme ci sono delle differenze che fanno anche riflettere su questo mito del Phantom sempre migliore in tutte le situazioni non è poi tanto così però lo vedremo tra poco ora vi lascio una breve clip realizzata con Antonio che saluta e ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e anche per l'opportunità nel poter realizzare un episodio a cui tenevo davvero tanto da agosto da quando usciro nel Mavic 2 per poter finalmente confrontare questi due modelli top di gamma di DJI per quanto riguarda la linea consumer che si non è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.